E' stato occupato già da ieri sera l'Istituto Industriale Marconi di Bari. Tecnicamente in autogestione, gli studenti hanno atteso la chiusura dei turni serali alle 22 per entrare nell'istituto e sprangare gli accessi. Dovrebbero essere un centinaio di studenti questa mattina abaricati all'interno della scuola, anche se l'arrivo della Digos, che ha accertato l'occupazione, ha fatto desistere qualcuno. Per il Marconi è il secondo tentativo, dopo quello dei giorni scorsi, dove per rompere catene lucchetti sono intervenuti i vigili del fuoco. Discorso analogo per l'Istituto Professionale Santarella, porte sprangate e studenti in autogestione, sino a data da definirsi. La protesta contro la buona scuola di Renzi si sta espandendo a macchia di leopardo in tutta la città, dove le scuole occupate e autogestite si moltiplicano. A oggi gli istituti coinvolti nella protesta sono 13, il Socrate, Marco Polo, Bianchi Dottula, Elani di Savoia, Fermi, Salvemini, Lenoci, Giulio Cesare, Romanazzi, Euclide e la Tommaso Fiore di Modugno.